Bene, torniamo insieme, abbiamo parlato moltissimo in questi giorni delle elezioni presidenziali e quindi Presidente eletto, come sapete, Donald Trump. Gli effetti sui mercati, proviamo a capirne di più insieme a Massimo Guerrieri, titolare di Q Consulenze Finanziarie. Benvenuto. Grazie, Presidente. Allora, il tema di attualità, l'abbiamo detto, sono indubbiamente le elezioni e la domanda che in questo momento si pongono evidentemente tutti i risparmiatori e qual esito hanno avuto queste elezioni sui nostri risparmi, quali potranno essere le conseguenze, ma prima ancora di questo, Guerrieri, ti chiedo, facciamo qualche passi indietro, cioè le borse sembravano molto spaventate rispetto all'elezione di Donald Trump, poi però si sono tranquillizzate ben presto. Sì, diciamo che si parlava di una nuova Brexit con effetti molto più ampi, in realtà abbiamo visto che non c'è stato panico sulla borsa, anzi, i primi due giorni ha avuto un meno 6 e un più 6, poi se mai mandiamo una diapositiva e Wall Street ha festeggiato questa elezione di Trump, quindi tante paure che noi avevamo non ci sono state, e invece dobbiamo fare forse attenzione ad altre cose, perché l'America è un paese forte, ancora è la prima economia a livello mondiale e quindi non dobbiamo farci prendere dalla paura, ma bensì analizzare la realtà con uno spirito critico orientati verso il futuro. La domanda veramente dei risparmiatori è che conseguenze potrebbero esserci? Sì, questa è una domanda che interroga anche noi esperti del settore, non è un caso che io martedì scorso, proprio durante le elezioni, ero a Milano con il professor Della Bocconi, proprio per fare il punto sulla situazione. Diciamo che gli scenari sono principalmente due, uno che riguarda la macroeconomia, ovvero Trump ha detto che applicerà una politica protezionistica nei confronti delle importazioni verso gli Stati Uniti, quindi chi esporta, noi siamo un paese che esporta, anzi la nostra economia in questo momento ha delle buone entrate sulle esportazioni, sicuramente si sta interrogando, ma questo lo diceva anche Landi, su quanto questo sia vero e ci possa danneggiare per prendere poi le contromisure. Un'altra cosa che ha detto Trump, ma anche stamattina, oltre a bloccare gli immigrati, costruire muri con il Messico e quant'altro, e rivedere gli accordi commerciali appunto con gli altri paesi, è quello di liberalizzare ulteriormente la speculazione. Scusa Stefania, ma ho lasciato il telefono acceso. Non importa, dai, è bello della diretta, diciamo così. Quindi liberalizzare la speculazione. Wall Street ha festeggiato anche per questo, ovvero dare più potere alle banche. Apre, chiuso un inciso, un candidato a diventare ministro del tesoro americano, è il CEO, il direttore generale, chiamiamolo così, di JP Morgan, una grossa banca americana, e un altro nome è un ex pezzo grosso di Goldman Sachs, un'altra banca americana. Quindi ovviamente l'establishment, dopo una paura iniziale, oggi sta prendendo tutto ciò che può dare un repubblicano al potere. Allora, due le diapositive che abbiamo visto mentre Guerrieri parlava. Vediamola prima, così ci aiuta anche Guerrieri a tornare sul pezzo e a commentare questo grafico. Adesso la regia lo manda in onda. Guerrieri. Sì, questo è l'aumento di volatilità a cui abbiamo assistito nei due giorni appena successivi alle elezioni, quindi un meno 6 e un più 6 sul mercato americano, e poi Wall Street che continua a correre verso i massimi. Quindi due cose che in parte avevamo già avvisato chi ci ascolta, quindi attenzione alla volatilità, quindi questi su e giù, ha maggior ragione se ci saranno queste aperture verso la speculazione. intendiamo speculazione che è già presente sui mercati. Dal 2008 in poi sono state fatte due leggi da Obama, quindi la Dodd-Frank e la regola Folker, Trump dice che le vorrà togliere, quindi dare più potere alle banche e quindi anche agevolare movimenti speculativi. L'altra era legata agli articoli del giornale, dove sono attuali, quindi li leggiamo un po' tutti i giorni, quindi borse che continueranno a salire su questa onda di euforia. L'altra onda di euforia è data dalle promesse elettorali di aumentare il debito americano per da una parte calare le tasse e dall'altra aumentare la costruzione di strade, ponti, cioè opere pubbliche. Quindi anche qua insomma c'è tanta speranza. Là dove dobbiamo fare attenzione, tornando un po' ai nostri soldi, è che se aumenta la volatilità sui mercati e si ha un'apertura verso la speculazione, di norma la storia ci insegna che guadagnino in pochi e perdono in tanti. Quindi bisogna proprio stare attenti. E quali altri rischi potrebbero esserci nei prossimi tempi, sempre riguardo ai nostri risparmi? Sì, io dicevo che martedì, quindi meno di una settimana fa, ero a Milano in Borsa Italiana e nella fattispecie appunto con Carlo Altomonte, un professore della Bocconi, e mi diceva che il vero rischio che corriamo noi come Europa, ma io dico come italiani, è legato al problema banche. Non è nulla di nuovo, però il nodo Monte-Paschi-Siena è un nodo che preoccupa molto, specialmente ai piani alti dell'Europa, perché se mentre per far ripartire l'economia possiamo iniettare, e la BCE vediamo che inietta liquidità sul mercato, nel caso di fallimento o problematiche sulle banche, nelle BCE né tantomeno gli governi possono fare nulla. E l'unica arma è il bail-in. Quindi quello che preoccupa veramente, ci deve un po' preoccupare, quindi aumentare la soglia di attenzione, è che se c'è da ricorrere al bail-in per salvare il Monte-Paschi-Siena, tutto il comparto bancario italiano verrà messo ai raggi X, ed è anche per questo che le principali banche si stanno attrezzando. Unicredit avrà il Consiglio di Amministrazione direi il 12 dicembre, e sembra che varia un aumento di capitale di 10 miliardi. Insomma, la nostra attenzione oggi come italiani e come europei deve rimanere ferma sulla sicurezza delle banche, e quindi anche sicurezza dei nostri risparmi. Ecco, abbiamo intravisto una slide che ci introduce alla terza domanda, perché c'è molta attesa anche rispetto al referendum costituzionale, i risultati di questo referendum in programma, come sapete, il 4 dicembre. Anche lì ci sono e possono esserci delle conseguenze. C'è attesa? Diciamo che quando c'è incertezza, sicuramente i mercati finanziari non sono amici, perché si lascia spazio appunto a manovre speculative. Parlavo del settore bancario, abbiamo visto come, parlando di Montepaschi Siena, ha perso il 90% in quest'ultimo anno, ma un po' tutto il settore bancario, ha perso da un 40% a un 90% appunto, e se questo referendum dovesse creare incertezza, quindi vincesse il no, sicuramente avremo un problema. Avremo un problema perché per ricapitalizzare Montepaschi occorrono fondi. Ora, trovare chi mette fondi, non solo una banca che in questo momento è piena di debiti e non produce utili, ma per di più in un clima incerto, perché ovviamente se vincesse il no vorrebbe dire sfiduciare il governo attuale, diciamo che sarebbe uno scenario preoccupante. Guardate questo grafico, Guerrieri, la dice lunga. Sì, questo è il grafico di Montepaschi Siena. Consideriamo che non sono novità, cioè chi ascolta le nostre trasmissioni ogni due giovedì alle otto e mezza, diciamo che è ormai un anno e mezzo che cerchiamo di un po' di spiegare il perché la situazione, perché ci troviamo in questa situazione. Anche adesso, ma leggendo poi i giornali, ma cerchiamo di darvi quegli elementi per leggere meglio i giornali, parlano di rischio sistemico legato ai debiti, perché tutte queste operazioni ovviamente fanno aumentare i debiti. Aumentare i debiti vuol dire aumentare i rischi. Visto che noi come Italia rimaniamo, tra virgolette, poco solvibili e a maggior ragione, se vince il no, saremo pure nell'incertezza, sarebbe bene controllare le obbligazioni che, ricordo, sono debiti di altri, dai titoli di Stato alle obbligazioni delle banche, ma anche alle obbligazioni delle aziende, controllare che siano obbligazioni sane, quindi non subordinate, ma in ogni caso che siano sicure e non corriamo rischi, cioè di perdere i nostri denari o veder calare i nostri asset. Per quanto concerne l'azionario, nel breve potremo assistere a dei picchi, però con l'aumento della volatilità vuol dire vedere, come abbiamo visto prima, dei più 6, meno 6 in un giorno e di conseguenza anche qui sarebbe bene vedere cosa si ha in portafoglio per non perdere soldi. Ecco, ancora un po' di consigli, guerriere, rispetto sempre a questo tema degli investimenti guardando agli scenari. Io posso dire quello che, anche perché poi non mi vorrei ripetere, quello che mi ha detto Carlo Altomonte martedì, lui mi ha detto che fino alla prossima primavera, quindi elencando una serie di scadenze, sarebbe bene rimanere liquidi, appunto per queste due, quindi uno per capire Trump, poi quello che farà realmente al di là degli annunci di campagna elettorale, ma anche, come stavo dicendo, dal punto di vista di Europa, noi abbiamo questo nodo importante, non solo del referendum italiano, ma proprio della situazione bancaria che non può più rimanere ferma. Di conseguenza, Unicredit a dicembre, molto probabilmente, si appresterà, varrà una media capitale e Montepaschi, noi sappiamo che, perché ce lo dicono i giornali, che è tutto fermo in attesa del referendum. E quindi, in questi sei mesi, lui mi diceva, occorre la massima prudenza, cioè non è uno scherzo. Quindi diciamo, al momento, congelare un attimo gli investimenti in attesa? Controllare gli investimenti che abbiamo e laddove ci sia del guadagno, perché appunto, ma oggi abbiamo rendimenti negativi, quindi del guadagno, perché vuol dire avevamo deciso di correre dei rischi, semmai consolidarlo, metterci liquidi per poi vedere cosa fare tra sei mesi. Quindi sei mesi siamo ad aprile, quando ci saranno i nuovi consigli di amministrazione, l'approvazione dei bilanci e vedere poi di entrare a comprare il debito o le azioni di chi è inutile e di chi avrà bypassato questo inverno. Siccome facciamo informazioni, siccome siamo abituati a leggere i giornali, a guardare i giornali e non soltanto, anche i titoli dei telegiornali, quanto conta, però anche un titolo, quanto conta una notizia, come viene data? Perché è vero, siamo in attesa di fatti, però questi fatti vengono raccontati anche nella quotidianità e allora le conseguenze possono anche essere diverse a secondo di come viene raccontata la notizia, guerrieri. Esatto, sì, sì, è così. Bisogna saper leggere tra le righe. Noi spesso invitiamo le persone a contattarci prima di fare delle firme, semmai passare dal nostro ufficio, proprio perché oggi le informazioni sono tantissime, internet, i giornali e il troppo stroppio, quindi spesso vediamo persone che dicono va bene, ho sorbombardato da mille informazioni e alla fine sto fermo. Il problema è che se io sto fermo e ho in portafoglio dei titoli sia obbligazionari che azionari, fondi, polizze assicurative che sono rischiose, in un contesto dove il rischio semmai non andrebbe tenuto, ebbene invece darsi da fare per selezionare e leggere tra le righe tra quello che leggiamo o il bombardamento di informazioni, che è un po' quello che cerchiamo di fare, cioè di fare un po' il punto sulla realtà, sull'oggi e interpretarlo. Noi ci mettiamo il nostro piccolo contributo tecnico, diamo la disponibilità di tempo, premetto che anche i check-up sono gratuiti in ufficio, proprio perché il momento lo richiede, lo richiede, non dimentichiamo che noi come Italia siamo finanziariamente appalanti più ignoranti in Europa e purtroppo sono costretta a confermarlo, abbiamo clienti all'estero e vediamo proprio il differenziale, quindi bisogna che facciamo uno scatto per metterci alla pari e questo vuol dire un po' tutti, ne approfitto per dire insomma che uscirà il nostro terzo libro a gennaio, Capitale Garantito, proprio per dare degli strumenti, ascoltando Telereggio e andando a interpellare quelle persone che vi possono dare qualcosa in più per aiutarvi per aiutare chi ci ascolta a crescere e a maggior ragione anche a difendere i propri risparmi. Ma ti senti prudentemente ottimista? Io lo sono sempre ottimista, perché altrimenti non farei questo lavoro. Dove ci sono rischi, ci sono opportunità. Allora non dimentichiamolo mai, i nostri clienti non hanno mai guadagnato tanto come quando ci sono stati i crolli di borsa, ma perché? Appunto perché il mondo va avanti, abbiamo 7 miliardi di persone che devono mangiare, vestirsi e curarsi, dobbiamo solo un attimino usare l'intelligenza e quindi capire che uno, i tempi stanno cambiando anche in maniera molto veloce. Vedo molte persone che ancora un po' sono addormentate, non è causa loro, perché ovviamente portare cultura finanziaria occorre tempo, però bisogna che un po' di buona volontà la ci si metta tutti. E quindi mi chiedevi se sono ottimista, lo sono molto, perché in questo mondo che va avanti noi siamo chiamati a viverci e a viverci facendo bene il proprio lavoro, cercando di aiutare il prossimo e mettendo le armi in campo, se ognuno mettesse le armi in campo, i propri carismi che ha, le proprie doni, doti, chiamiamoli come vogliamo, messi a disposizione per il prossimo, diciamo che avremo una società che andrebbe a mille. Quindi la paura è bloccante. E quindi io dico questo non per impaurire chi ci ascolta, ma per mettere sul chi va là proprio per poi avere quelle armi per far sì che se qualcuno cade nel fosso ci vuole anche chi lo tiri fuori, perché altrimenti se siamo un po' per l'addormentato e ignorante alla fine facciamo la fine del topo, insomma. E questo non va bene. Bene, grazie Massimo Guerrieri per questi consigli. Grazie Stefania. Grazie davvero a Q Consulenze Finanziarie. Ci fermiamo per le notizie.